Stadio Colmo, record d'incasso per Firenze, squadre che scattano sotto la direzione di Lobello, disposte in modo diverso. La Lazio con opportunismo, la Fiorentina con maggior piglio offensivo perché in classifica fa la parte della inseguitrice. Il centrocampo dei Biancazzurri è attento, ma anche la Fiorentina attacca, sì ma con molto ragionamento, per cui le due squadre mettono in luce un ottimo sistema difensivo, filtri eccezionali nei quali è difficile agire a sorpresa anche per le seconde regie o regie arretrate, cioè di Wilson da una parte e di Rizzi dall'altra. I portieri svolgono un lavoro di ordinaria amministrazione e gli attaccanti sono costretti a calciare spesso da fuori area. Al ventottesimo è Saltutti che da destra opera un cross pericoloso, ma Pulici alla meglio. Al trentunesimo, in seguito a calcio di punizione, Pulici compie il primo difficile intervento su tiro di Guerini. Uno degli uomini più attivi della Lazio è Martini e sul suo cross, su Perchi, eccede in sicurezza. La palla li sfugge e Garlaschelli manca l'occasione. La Fiorentina segna una superiorità territoriale. La Lazio pare impegnata in un gioco prevalentemente di rottura, con l'eccezione di qualche spunto in contropiede manovrato. Sono Viola ad accelerare il ritmo e premono nell'area degli avversari. Al quarantesimo, la mischia e il fallo in area su Galviolo. Lo Bello decreta il calcio a due, Merlo ha desolati ed è gol. La Lazio allora cessa di essere guardinga e si porta in avanti con maggior determinazione e nel corso di una manovra offensiva Nanni va a terra in area. Reclama il rigore, ma Lo Bello lo punisce per simulazione di fallo. Nella ripresa gioco più vivo agonisticamente. La Lazio tende a recuperare, è evidente. All'ottavo, Chinalia, nell'unica azione vincente su Galviolo, manca il gol in modo clamoroso. La Frentina che si era disposta a sua volta a controllare l'incontro, scampato il pericolo, ritorna attiva. Su appoggio di desisti, Guerini al quattordicesimo tira poco distante dalla porta di Pulici. Al ventesimo, l'episodio più discusso della partita. Beatrice in azione di alleggerimento per Superchi viene colto in fallo dall'Obello che decreta il rigore. Chinalia lo realizza. La partita cambia nettamente visione mia. Si fa nervosa, soprattutto la parte Viola. La Lazio mostra tutta la sua maturità in questo frangente, controlla con maggior disinvoltura tutti i tentativi dei padroni di casa. Pulici è impegnato due o tre volte, ma senza troppe preoccupazioni. Nel finale c'è ancora un episodio che ha fatto discutere, questo sul quale Viola reclamano il rigore. Nel frattempo, per l'espulsione di Martini, la Lazio era rimasta in dieci, manovrando però con accorgimento i biancazzurri conducono in porto un risultato di parità sostanzialmente giusto.